Altro DPCM, altre regole, altre restrizioni. Tante attività del tessuto economico pesarese subiscono ora le direttive del nuovo decreto emanato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Decreto che entra in vigore oggi e che fino al 24 novembre costringe alla chiusura totale palestre, piscine, attività sportive e dilettantistiche, cinema e teatri. Chiusure totali e chiusure anticipate, come quelle di bar, ristoranti, gelaterie, pub e pasticcerie, categorie che mercoledì scenderanno in piazza a Pesero in una manifestazione di dissenso organizzata dalla Fipe Confcommercio. Col nuovo DPCM infatti bar, ristoranti e pubblici esercizi dovranno chiudere alle ore 18. Fino a quell'ora il consumo viene ridotto ad un massimo di quattro persone sedute allo stesso tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Sono invece sempre consentite le consegne a domicilio e i servizi di ristoro negli alberghi, nelle aree di servizi autostradali e negli ospedali. Chiuse, come detto, palestre e piscine, il che ha reso carta straccia anche l'ammonimento del precedente DPCM, vecchio di appena una settimana, che invitava proprio i centri sportivi a mettersi in regola con normative che, a dire delle palestre pesaresi, erano già tutte ultra rispettate. Sospesa ogni competizione sportiva individuale e di squadra a livello dilettantistico. Continuano invece i campionati professionistici, ma ormai questione di ore la ratifica del ritorno alla disputa degli eventi a porte chiuse dopo la fugace e parziale riapertura ad un numero limitatissimo di spettatori nelle ultime settimane. Chiudono anche sale gioco e sale scommesse. Abbassa il sipario anche la cultura. Da oggi chiudono cinema, teatri e sale da concerto e vengono istantaneamente annullati tutti gli eventi previsti dal palinsesto di questo mese, anche quelli che si sarebbero svolti all'aperto. Inutile sottolineare che resteranno chiuse le discoteche, che di fatto non hanno mai riaperto. Restano vietate fiere e sagre, ma sono consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale validate dai protocolli. Vietati i convegni, eccezione fatta per quelli con modalità distanza. Più in generale, nei luoghi pubblici come negozi e centri commerciali, gli ingressi saranno sempre contingentati e regolamentati dal numero massimo di persone ammesse all'interno del locale che sarà affisso all'ingresso. Un numero massimo che corrisponde a una persona ogni 10 metri quadrati. Nelle pubbliche amministrazioni e uffici si va invece verso l'ingresso del personale a orari scaglionati. Naturalmente il nuovo DPCM non risparmia l'attività scolastica, un'attività con didattica sempre più a distanza per quel che riguarda le scuole superiori. Resterà in presenza solo il 25% delle lezioni, sale dunque dal 50 al 75% la quota di studenti che resterà a casa collegato a un monitor con l'aula scolastica. Resta invece in presenza l'attività didattica di scuole materne, elementari e medie.